ah finalmente due tanto attesi insieme è appunto due ma me li esca da lì tanto gli ho detto che l'avrebbero vista lei non mi crede mai no no ma io stavo sistemando il pennello come il pennello che pennello quello da moca è sistemato ma me li ma bastava dirlo che stava aspettando matteo bruni no 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 topo secret nulla potevo dire come topo secret ma quando mi sento parlare mi sembra di vedervi via la radio e appunto come alla radio scusi come come la radio signor la voce e qui siamo in televisione però sa che non ha tutti i torti perché dal 31 di marzo dalle 8 alle 10 tutti i giorni lei caro signor la voce ma come tutti voi a casa potrete guardarci e ascoltarci in tv glielo dica pure lei vecchio parruccato che non è altro una vita che ti dico che i cappelli sono miei i due di via venturi dal 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 solo su sardegna 1